Con Filippo Bandinelli al termine dell'amichevole contro l'Udinese, che gara è stata? Gara che chiude questa prima parte di ritiro di stagione in vista dell'impegno ufficiale? Sì, è stata la prima amichevole contro una squadra impegnativa. Abbiamo cercato di riproporre le cose che ci chiede il mister. Sono state settimane non facilissime, perché sono stati diversi ragazzi colpiti dal Covid, però per fortuna la situazione sembra che stia terminando e quindi le aspettiamo. Però siamo soddisfatti, abbiamo lavorato bene, abbiamo cercato di impegnarci, di lavorare sodo. Abbiamo sofferto anche carichi di lavoro che sono stati molto impegnativi. Però c'è entusiasmo, c'è voglia di far bene e quindi questa prima amichevole ci è servita per capire tante cose. Sono soddisfatto della prova. Settimana adesso possiamo dire tipo in vista del primo impegno ufficiale. Sarà una gara importante contro un avversario trovato l'anno scorso e soprattutto la prova generale in vista del Via La Sarea. Sì, sì. Incontriamo il Vicenza, che è sicuramente una squadra forte, impegnativa. Quindi faremo una settimana tipo, cercheremo di prepararci nel migliore dei modi per affrontarla al meglio. Sono sicuro che faremo una grande prova. È sempre calcio, si gioca sempre 11 contro 11. Però insomma, Filippo Bandinelli come vive questa attesa della prima del campionato, della Serie A, della massima serie, dopo averla conquistata l'anno scorso da protagonista. Sì, c'è tanta attesa da parte nostra, c'è tanta voglia, c'è tanta voglia di misurarsi con la Serie A. Per tanti di noi sarà la prima volta, però stiamo lavorando bene, stiamo cercando di farci trovare pronti. Quindi non vediamo l'ora che inizia il campionato. Grazie. 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 Grazie.